Concludiamo la pagina sportiva con il ciclismo perché domani si alzerà il sipario sulla Tirreno Adriatico, la corsa dei due mari che si concluderà martedì 16 marzo a San Benedetto del Tronto dopo sette tappe, circa mille chilometri totali. Sono due gli abruzzesi in gara, Giulio Ciccone, capitano insieme a Vincenzo Nibali della Trek Secafredo e Dario Cataldo, portacolori della Movistar. Avete appena visto, la tappa più significativa è quella con l'arrivo a Prati di Tivo previsto per sabato 13 marzo. Il giorno dopo, domenica 14, si ripartirà sempre dall'Abruzzo da Castellalto, destinazione Marche con arrivo a Castelfidardo. La salita, eccola qui, la planimetria di Prati di Tivo è l'asperità più impegnativa della Tirreno Adriatico, salita che misura quasi 15 chilometri con una pendenza media del 7%. Su questo traguardo hanno già trionfato Vincenzo Nibali e Chris Froome. Prima di affrontare l'ascesa finale, i corridori saliranno verso il passo delle Capannelle. Gran premio piuttosto facile, con pendenze non impegnative. I favoriti per la tappa di Prati di Tivo sono Pogacar, Bernal, Landa e il nostro Giulio Ciccone. Ecco qui la planimetria dell'arrivo di Prati di Tivo, considerata un po' la tappa reggina di questa nuova edizione della Tirreno Adriatico.